Ciao a tutti ragazzi, siamo qui tornati con un nuovo video per un nuovo episodio del Road to Prestige su Call of Duty Black Ops 4 Detto questo, andiamo alla ricerca di una partita Non so dove muovermi Eccolo là, ottimo inizio Ora mi ricordo perché non gioco tante volte tutti contro tutti Dai, non c'è un animo a viva Nell'angolo, ma anche tu perché vuoi farti così tanto schifo? Anche questo che si muoveva Questo non ci voleva Me l'hanno distrutto Chi è sto bip bip? Alle spalle A guzzare la pista serve qualcosa Qualcuno dietro? Li sento, non escono Cioè dai, tutto il tempo che ho fatto Ho aspettato troppo tempo lì Uccidetemi male Questo che si nasconde negli angoli Questo come si era messo lo sa solo lui No, va bene, ne avevo due In mezzo al mondo ero Ok, qui non venne dopo Sai che è mai che fugga No, ma dove l'ho messa la mira lì? Mai No ma che cosa Ogni volta Ogni volta Mi devo rovinare Non riesco a guardarmi in torno Oh no Ah alle spalle no ogni volta lo avvino lo prendo non riesco neanche a stare calmo c'è tipo un attacchi cardia altissima no se l'ho smirata dove no 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 ci stavo credendo non oggi io perché le smiro così forte perché voglio farmi del male perché a me piace farmi del male questo istinto masochista quando ti aspettano è ancora peggio perché non puoi farci niente pavento oh bip bip tua non sto neanche guardando come sta andando la partita è bip bip ho detto che non riesco a stare lì in quelle zone qui esce non capisco dov'è no vabbè c'è proprio il mondo mi odia il mondo mi odia il mio oh po eh P il mio il mio tu lo è t tutto le